Riprende oggi la preparazione dell'Agropoli in vista della trasferta di domenica a Montalto, penultima giornata della regular season. Celebrata la vittoria dell'Akragas, laureatasi campione con tre giornate di anticipo, è aperta sia la lotta play-off che quella play-out. In quest'ottica la gara di domenica che mette di fronte l'Agropoli e il Montalto risulta decisiva per entrambe. Il Montalto sta cercando di riagguantare la zona play-out a scapito della Tiger Brolo. L'Agropoli si gioca l'ultima carta utile per agganciare il secondo posto. Sono quattro i punti di distacco dal Rende, difficilmente colmabili in due gare, ma l'Agropoli ci proverà cercando di far bottino pieno nelle ultime due giornate. La squadra di Mister Rigoli chiuderà con il noto il campionato, poi saranno play-off. Se il campionato finisse oggi si giocherebbe Agropoli frattese come prima gara, essendo il Torrecuso al terzo posto per vantaggio negli scontri diretti. In questa settimana si valuteranno le condizioni degli infortunati, sperando nel recupero almeno di esposito. Rientrano dalla squalifica sia Berretti che Siano, ampliando le scelte di Mister Rigoli.